E buonasera a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale con un nuovo video perché siamo così ridotti Perché oggi è il 31 dicembre Eh sì, ottobre magari Il 31 ottobre sì, oddio mio È Halloween quindi ci siamo travestiti con sti ragni Aiuto E i pipistralli E le zucche Magia Wow Allora per noi È un albero di Natale Per noi Cosa andiamo a fare oggi? I panzerotti Perché andiamo a fare questi panzerotti? Perché l'anno scorso, un anno fa esatto, il 31 ottobre 2022 Abbiamo fatto i panzerotti Ma ancora non facevamo video perché tra poco si avvicina la data del nostro anniversario su YouTube Perché è circa 13 novembre Giugno di lì Sì E quindi anche quest'anno rifacciamo i panzerotti e ve li facciamo vedere anche noi Speriamo vengano bene Anche perché ormai siamo diventati esperti Sicuro, li abbiamo fatti solo l'anno scorso Sì, solo una volta però dai Siamo abbastanza bravi Speriamo, chi lo sa, fatecelo sapere voi Nei commenti Nei commenti Adesso cambiamo location E ci vediamo a fare l'impasto In tante E poi facciamo i panzerotti Esatto Li riempiamo E li buttiamo nella friggitrice No Nell'olio A friggere Dio mio Ho visto che ci sono i suoi di là Io registrerò E lui farà l'impasto e tutte le cose Così non le disturbiamo Poi lavorerà anche lei, tranquilli Oddio Ciao, ciao, ciao Franci, cosa fai? Non si va Come i bambini L'impasto è finito Adesso ragazzi stiamo facendo qua le palline e poi facciamo i panzerotti Ragazzi ho fatto la prima stesura Adesso Danny taglia la mozzarella E metto il sugo qua dentro Per poi metterlo come ripieno nel panzerotto E poi si tutto qua dentro Ragazzi è venuto un po' strano il primo Friggono Cioè friggono Frigge Uno per ora Eh, Franci devi tipo toglierlo, sai? Non lo neanche metti dentro Allora ragazzi Mi so che qua siamo un po' in difficoltà E ci vediamo alla fine Quando mi hanno venito tutti i panzerotti E li facciamo vedere Eh, sì Franci È colpa tua Ragazzi Finalmente Abbiamo finito I panzerotti Guardate Sono venuti abbastanza bene Sì la forma è venuta perfetta perché l'ho fatta io Abbastanza bene Speriamo siano anche buoni Comunque il procedimento è molto semplice Abbiamo fatto Poi vi lasciamo la ricetta in descrizione Abbiamo fatto Non lo so Abbiamo fatto una specie di impasto Abbiamo steso Abbiamo messo il ripieno E l'abbiamo fritto Questi sono miei? Voglio assaggiare anch'io uno buono Scusa eh Dai assaggiamo Cosa devi prendere tutti? Sì È buono Intanto Sono crudi Però Sono fritti Un crudo fritto Perché qualcuno Gli ha fatti troppo grossi No Eh sì Sono le cose di poco poco L'anno scorso erano venuti meglio Cosa fai per dire il video? Non sto partendo Sì È fatto così No Manca te dici Dio mio Dai Considerazioni finali Ci resterà tutto sullo stomaco Esatto Perché è frutto Però dai Meglio l'anno scorso Infatti l'anno scorso avrei dato un otto e mezzo Non morire Quest'anno io do un sette Dai Per l'impegno Sì sette ci sto E niente Noi finiamo i panzerotti E ci vediamo A un prossimo video Al prossimo video Vedrete Che ridere Ciao Franci Dio mio Iscrivetevi al canale Lasciate un like Condividete tutti i video Speriamo bene per il prossimo video Perché questa qua mi mette un po' di ansia No Franci Sei ancora E niente Ci vediamo A un prossimo video Ciao 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 Ciao